Siculiana in allerta, il paesino costiero delle agrigentine fra quelli più gettonati dai migranti, scelto come meta d'arrivo dagli sbarchi fantasma. Approdano con delle barchette in legno di pochi metri, con dei piccolissimi motori per non essere intercettati dai controlli e dalle forze dell'ordine. Scappano facendo perdere le loro tracce. E se dovessero essere notati in mare, come spesso accade, gli uomini delle forze dell'ordine, come testimoniato dai numerosi video, hanno l'ordine di intimare loro l'alt, ma non possono intervenire. Insomma, i migranti non possono essere bloccati se non via terra. Questi gli ordini d'ingaggio. Così tra la popolazione cresce la preoccupazione. Ci si chiede chi sono questi migranti. Hanno precedenti penali? Tra loro possono nascondersi dei terroristi? Interrogativi che restano in sospeso, considerando che le forze dell'ordine hanno intercettato solo 124 migranti sui circa 800 sbarcati in due settimane tra Real Monte e Siculiana. Un dispositivo interforse che non convince gli abitanti di Siculiana. Già esasperati perché all'interno del loro paese vedono sorgere una delle strutture d'accoglienza più grande della provincia, l'ex hotel Villa Sicania. Così i cittadini hanno programmato per domani pomeriggio alle 18 un confronto in piazza davanti il municipio, per discutere e trovare soluzioni sul caso dei frequenti sbarchi indisturbati di migranti sulle coste siculianesi. Negli ultimi mesi sulle spiagge della provincia di Agrigento, sottolinea Maria Amico, ci sono stati un numero elevatissimo di sbarchi di migranti. Almeno una decina di queste barche si trovano ancora sugli arenili, con evidenti problemi di natura ambientale e paesaggistica. L'associazione ambientalista, capitanata da Claudio Lombardo, ha presentato un dossier resposto all'ufficio dogane per conoscenza alla capitaneria, in cui si chiede di voler vigilare su questa situazione.